L'album esce il 29 di ottobre, si intitola Tango Makondo come il nostro spettacolo. Ci sono degli ospiti eccezionali, oltre noi tre, perché noi abbiamo registrato ad Udine, ma in realtà poi, come sapete, i materiali sono stati mandati. Chi c'è? Tosca, Elisa e Malikaiana. E Malikaiana, tre canzoni strebitose. Tre tanghi incredibili, cantati da Dio, sono completamente diverse. E' bella anche la musica originale, però diciamolo. Beh, sì, ovviamente ci sono... Scritto dei bei pezzi. Abbiamo scritto dei bei pezzi, perché ci sono i brani di Pierpaolo, sono i tuoi. Un bel mix, dai. Un bel mix. Un bel album. Quindi l'album esce il 29 di questo mese. Tango Makondo è ovviamente il titolo del nostro spettacolo teatrale, montato qui al Teatro Stabile di Bolzano, con la regia di Giorgio Caglione, con attori e danzatori in questo splendido luogo. Esatto. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao a te. Grazie. 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 Grazie.